Home Assistant. Come creare una planimetria interattiva. Parte 2. In questa seconda parte del tutorial vedremo come inserire le tue entità domotiche nella planimetria della tua casa. Se ti sei perso la prima parte su come disegnare la tua planimetria, clicca sul riquadro in evidenza. Altrimenti, continua a seguire questo video. Per cominciare voglio mostrarti sin da subito quale sarà il risultato. Questa è una semplice planimetria creata come esempio nel primo video. Come puoi notare sono state inserite al suo interno una serie di dispositivi domotici come lampadine e telecamere. Al termine di questo tutorial sarai in grado di commutare il loro stato, immediatamente con un semplice clic sulla relativa icona. È possibile anche mostrare al clic un'interfaccia di comando, con maggiori dettagli sul dispositivo selezionato. Se possiedi dispositivi Chromecast oppure un telecomando remoto, come ad esempio un Broadlink, puoi accenderli e scegliere cosa riprodurre. Continua a vedere il video e scopri come fare. Come primo step dovrai con il file editor caricare, nella cartella www, l'immagine della tua planimetria. Ti sarà utile anche caricare delle immagini con stati diversi, ad esempio luce accesa e luce spenta. Serviranno ad ottenere delle piccole animazioni durante la commutazione dei dispositivi. Il file editor puoi installarlo in Home Assistant attraverso il menu impostazioni. Lo troverai tra i componenti aggiuntivi. Creiamo una nuova vista in Home Assistant. Aggiungiamo la scheda Elementi Immagine e cancelliamo il codice di esempio presente. Scriviamo il seguente codice. Le prime tre righe indicano il percorso della nostra planimetria e il titolo attribuito ad essa. A seguire il codice identifica l'entità domotica da mostrare. Nell'esempio si tratta di una lampadina con un'icona standard MDI. Al posto di La mia lampadina, inseriamo il nome della nostra entità e attraverso i parametri top e left posizioniamola dove desiderato. Fatto! Il primo dispositivo è pronto per essere acceso attraverso un'interfaccia di comando. Ecco come apparirà l'interfaccia di comando quando cliccheremo sull'icona della luce. Se invece vogliamo avere una commutazione diretta, acceso spento, basterà inserire il codice TAP ACTION, come mostrato in figura. Ma facciamo un passo in avanti. Ricordi le immagini di stato inserite nella cartella con il file editor. Ora le utilizzeremo per mostrare un'animazione all'accensione e allo spegnimento della luce. Ecco il codice da inserire. Le immagini che preferisci utilizzare per animare gli stati, in formato PNG, Portable Network Graphic, puoi facilmente reperirle su internet. In quest'altro esempio, invece, ecco come mostrare una telecamera. Con il codice TRANSFORM, puoi ruotare il verso del dispositivo. Per finire, un'ultima chicca per la tua planimetria interattiva. Ecco il codice per comandare un dispositivo Chromecast e a seguire il codice per un televisore pilotato da un radiocomando remoto di tipo Broadlink. Clicca sulle relative icone e potrai comandare i tuoi dispositivi direttamente dalla planimetria. Non lo trovi fantastico? Se vuoi, seleziona i tuoi files preferiti e mandali in riproduzione. È stato utile? Allora iscriviti al canale e continua a seguire Domotica in 100 secondi. Un like è sempre gradito, e aiuterà la crescita del canale. Cosa aspetti? Se questo video è stato di tuo gradimento metti un like, e non dimenticare di iscriverti al canale. Al prossimo video! Grazie a tutti!